E con i colori verdi addosso sarebbe uno spettacolo vederli in mezzo alla città, nei passeggini eccetera e sarà ancora più bello vederli quando vengono allo stadio a 2-3 anni vestiti bianco-verde insomma significa c'è una continuità fra tifo, colori sociali, squadra, società, città eccetera quindi questo è il nostro primo obiettivo C'è una vettura soltanto sull'azienda Givova che ha scelto quest'anno tra l'altro facendo anche un ulteriore sacrificio riscendendo prima con le gere Devo dire praticamente che Givova non è il primo anno che fa lo sponsor con noi abbiamo iniziato con Givova, poi siamo passati all'Egea quest'anno non siamo rimasti soddisfatti al 100% della qualità dei prodotti dati ringrazio ovviamente pubblicamente l'Egea per quello che ha fatto per noi in questi due anni trascorsi però insomma abbiamo deciso di dare un piccolo taglio nuovo ai colori sociali e all'immagine di questa squadra e quindi abbiamo cambiato sponsor, ritengo migliorando significativamente il prodotto spero che le aspettative siano pari alle attese e a quello che andremo a realizzare insieme al nuovo sponsor tecnico Quale sarà il calciatore nuovo che indosserà la nuova prima maglia? Non ve lo posso dire, potrebbe essere una sorpresa oggi, potrebbe essere, non lo so, vediamo Grazie Grazie